Ha preso il posto di Alfio Pelliccioni e ora avrà l'arduo compito di far meglio di chi l'ha preceduto. Lui è Giuseppe Magalini, è il nuovo direttore sportivo del Catanzaro ed è stato presentato dal presidente Floriano Noto. 60 anni per non essere di Villafranca, Magalini arriva dal Vicenza e prende la pesante eredità di chi lo ha preceduto e che per tanti, troppi anni, ha fallito l'approto alla Serie B. Noto gli ha proposto un anno di contratto con l'opzione del secondo in caso di promozione. Ecco le sue prime parole da dirigente giallorosso. Un compito importante, ma consi di sapere quante difficoltà ci possono essere, ma fiduciosi di poterle superare. Sinceramente altre volte mi sono capitate queste situazioni, sono cose da conviverci bene e venire in una piazza dove si può riportare un entusiasmo per poter arrivare dove tutti sperano sarebbe un grande orgoglio riuscirci per essere ricordato da quel punto di vista. Questa è un'esperienza che mi stimola, ma mi stimola perché io sono venuto al sud, però sono venuto come dicevo prima in una componente societaria con ambizioni, che questa è la cosa più importante. Io di certo non sarei andato in tutte le squadre quest'anno a poter lavorare, devo essere sicuramente una società d'elite e questa lo è, quindi sono ben contento di essere venuto. Non ci si deve inventare nessuna chimia particolare per fare bene, ma solamente esperienza accumulata e l'opportunità lavorativa capitata.